Essere LGBT che è non significa che non sei omofobo. L'omofobia è un pregiudizio o un'avversione nei confronti delle persone LGBT che ha più. Può manifestarsi in diversi modi, tra cui Discriminazione, come negare l'accesso a servizi o opportunità. Violenza, come aggressioni fisiche o verbali. Discorsi d'odio, come commenti offensivi o denigratori. L'omofobia può essere interiorizzata, nel qual caso la persona LGBT che è prova odio o disgusto per se stessa. Può anche essere esternata, nel qual caso la persona LGBT che è esprime odio o disgusto nei confronti di altre persone LGBT che ha più. Essere LGBT che è non significa che non si possa essere omofobici. È importante ricordare che essere LGBT che è non significa che non si possa essere omofobici. Ci sono molte persone LGBT che è che hanno interiorizzato l'omofobia che hanno vissuto nella loro vita. Possono credere che l'omosessualità sia sbagliata o immorale, e possono sentirsi a disagio o in colpa per la loro stessa identità. Ci sono anche molte persone LGBT che è che sono omofobe verso altre persone LGBT che è più. Possono credere che alcune forme di orientamento sessuale o identità di genere siano sbagliate o immorali. Possono anche sentirsi minacciate o in competizione con altre persone LGBT che è più. Cause dell'omofobia L'omofobia può essere causata da una serie di fattori, tra cui Educazione L'omofobia può essere trasmessa attraverso l'educazione. Se una persona cresce in un ambiente in cui l'omosessualità è vista come sbagliata o immorale, è più probabile che sviluppi atteggiamenti omofobici. Religion Alcune religioni insegnano che l'omosessualità è un peccato. Questo può portare le persone ad avere atteggiamenti omofobici. Cultura Alcune culture sono più omofobe di altre. In queste culture, l'omosessualità può essere vista come un tabù o addirittura illegale. Conseguenze dell'omofobia L'omofobia può avere gravi conseguenze per le persone LGBT che ha più. Può portare a Discriminazione, come la perdita del lavoro o dell'alloggio. Violenza, come aggressioni fisiche o verbali. Problemi di salute mentale, come depressione, ansia e suicidio. Come combattere l'omofobia. L'omofobia può essere combattuta attraverso una serie di azioni, tra cui Educazione, è importante educare le persone sull'omosessualità e sulla sua normalità. Riconoscimento, è importante riconoscere e affrontare l'omofobia nelle istituzioni e nelle comunità. Legislazione, è importante adottare leggi che proteggano le persone LGBT che è dalla discriminazione e dalla violenza. Conclusione L'omofobia è un problema serio che può avere gravi conseguenze per le persone LGBT che ha più. È importante ricordare che essere LGBT che non significa che non si possa essere omofobici. È importante lavorare per combattere l'omofobia in tutte le sue forme. Articoli psicologici correlati L'omofobia interiorizzata, cause, conseguenze e trattamento L'omofobia esternata, cause, conseguenze e trattamento Come affrontare l'omofobia Risorse Associazione Italiana di Psicologia Gay Help Line Telefono Azzurro Estensione dell'articolo In questo articolo, abbiamo discusso dell'idea che essere LGBT che non significa che non si possa essere omofobici. Abbiamo esaminato le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni all'omofobia. Ecco alcuni argomenti aggiuntivi che potrebbero essere inclusi in un articolo più esteso su questo argomento. Esempi di omofobia interiorizzata e esternata La relazione tra omofobia e salute mentale Il ruolo della famiglia e degli amici nell'affrontare l'omofobia Le sfide specifiche che le persone LGBT che è di colore e di altre minoranze affrontano in relazione all'omofobia Esempi di omofobia interiorizzata e esternata L'omofobia interiorizzata può manifestarsi in diversi modi, tra cui Discriminazione di sé, come l'evitamento di attività o relazioni associate all'omosessuali